Numero 4. Helmex sensitive e sbiancante delicato è un dentifricio ideale per chi ha denti sensibili. Utilizzato quotidianamente, offre un'azione sbiancante e rinforzante senza essere aggressivo. Privo di SLS e PEG, risulta sicuro e delicato. Una nota negativa è la presenza di saccarina. Ogni confezione contiene 75 ml di prodotto e, grazie agli ingredienti selezionati come Hydrated Silica e Olafler, offre pulizia e protezione clinicamente testate. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione. Numero 3. Parodontax Extra Fresh Complete Protection è un dentifricio ideale per chi cerca una soluzione efficace per gengive delicate. Questo prodotto offre una protezione completa, riducendo i sanguinamenti gengivali e migliorando la salute orale. Con una formula che include fluoro e bicarbonato di sodio, il dentifricio sbianca i denti mentre previene la placca. Tuttavia, contiene saccarina e SLS. Il tubetto da 75 ml non è adatto ai bambini e non è stato clinicamente testato, ma resta una scelta valida per adulti. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Numero 2. Antica erboristeria totale è il dentifricio ideale per chi cerca una protezione completa. Con una funzione protettiva dello smalto e antibatterica, è perfetto per le gengive delicate. Tuttavia, contiene saccarina e sodium loril sulfate, che potrebbero non essere adatti a tutti. La confezione da 75 ml si distingue anche per la presenza di ingredienti come il fluoro e la glicerina, rendendolo efficace contro placca e carie. In descrizione trovi il link di questo prodotto. Numero 1. Il dentifricio rigenerante e rigenerate Advanced Toothpaste si distingue per la sua capacità di rinforzare lo smalto dentale e prevenire la carie. Con una leggera azione sbiancante non abrasiva, si presenta come una valida soluzione per mantenere denti sani e forti. Contiene comunque saccarina, PEG e SLS, che potrebbero essere un deterrente per alcuni utenti. La confezione da 75 ml è pratica e adatta per l'uso quotidiano, anche per bambini sopra i 3 anni. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Grazie per la visione!